Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi, come vi anticipavo nel video precedente, di un altro personaggio che ha avuto un ruolo molto importante nelle cosiddette operazioni di narcotraffico nel sud-est asiatico e che ha avuto anche un ruolo molto importante nell'operazione Iran-Contra. Quindi armi in cambio di sostanze stupe. Lì vi ho detto cosa è successo, che cosa avrebbe fatto il governo di Cano secondo queste finte teorie della cospirazione. Avrebbe rifornito di armi terroristi Contras per andare comunque a distruggere il governo sandinista che tra l'altro era stato anche regolarmente eletto. Quindi lui, John Negroponte, un altro bravo ragazzo, ha avuto un ruolo predominante in tutto questo, come vedremo, ed è stato anche collega, un volto molto 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 stretto, alla figura di Henry Kissinger, un altro bravo ragazzo che ben conosciamo. Comunque, partiamo dall'inizio. Allora, lui lo troviamo, John Negroponte, lo troviamo sia, sempre secondo queste finte teorie, poi, o magari non ha fatto nulla sto Cristiano per meritarsi tutto questo. Quanto mi costa, ragazzi. Però, quindi, lui lo troviamo sia nei traffici di Drøm, sia negli attacchi al Nicaragua, infatti era proprio John Negroponte, ambasciatore statunitense in Honduras all'epoca, e vi ho parlato, l'Honduras per loro era molto importante proprio a causa, no, proprio per questi scambi. Quindi, lui è anche stato, tra l'altro, membro, non so se lo conoscete questo, del progetto Nuovo Secolo Americano. Conoscete il progetto Nuovo Secolo Americano? Se non lo conoscete, io ve ne potrei parlare nel dettaglio. Lì, però, non andrei a spezzettare il video, perché sarebbe veramente troppo, però se non conoscete il progetto per il Nuovo Secolo Americano, magari fatemelo sapere, perché potrei parlarvene. Sapete che l'importante è scrivermelo nei commenti. Per me è un piacere parlare di queste tematiche, certo, le dovrò schematizzare, perché se mi mettessi a parlare liberamente di tutto questo, andrei da una parte all'altra del mondo, da un filo all'altro della storia, perché sono così, mi piace, però non ci vuole niente a schematizzare comunque argomenti che già conosco, che già so. Fatemi sapere se vi può interessare anche un video riguardante il progetto Nuovo Secolo Americano. Bene, già Negroponte ne era membro. Nel periodo in cui Negroponte prestò il suo servizio per il paese, appunto in Honduras, questo paese divenne noto come USS Honduras. E questi aiuti americani, che appunto arrivavano lì, salirono da 4 milioni a 77 milioni l'anno, ragazzi. Già nel 1964, come mi appuntavo, Negroponte era stato assegnato all'ambasciata americana in Vietnam, proprio mentre si intensificavano sia la guerra in quel paese che le operazioni di narcotraffico nel sud-est asiatico. Quindi, capite bene che secondo queste storielle, da cui bisogna diffidare, lui, beh, comunque fu molto molto attivo proprio in questo periodo. Importante da comprendere, ma negativo, ovviamente negativo per chi l'ha subito. Perché ricordiamoci che queste operazioni, vi ho citato anche le operazioni fenici in cui persero la vita tantissimi civili, erano operazioni che loro si mettevano in atto, non curandosi minimamente di quelli che poi sarebbero stati magari risvolti le conseguenze per i civili, che non c'entrano niente. I civili come non c'entravano niente con le loro politiche? Non c'entrano niente nemmeno oggi. L'unica cosa di cui siamo colpevoli è il credere a questi personaggi, credere che loro dicano la verità, credere che loro agiscano per il nostro bene, credere a tutto questo. Questa è l'unica nostra colpa. Sì, su questo noi possiamo effettivamente farcene una colpa, ma per quanto riguarda le loro politiche, vedete come agiscono privi di empatia? Se tu disgraziatamente ti trovi in un luogo in cui io devo fare un attacco, chi ti conosce? Via! Segnò la tua dipartita, senza nessuno scrupolo. È quella la mente, arcontica, rettiliana, draconiana. Quella è la mente, non guardano in faccia a nessuno, nemmeno a loro stessi a volte. Lui fu consigliere anche di Kissinger, ecco perché vi ho detto all'inizio che c'è stato un forte legame tra i due, e anche supervisore delle politiche vietnamite appunto nel Consiglio di Sicurezza Nazionale Statunitense. Quindi è stato anche molto molto attivo in questo conflitto senza senso che Kennedy voleva assolutamente interrompere, poi sia per questo che per tante altre cose che voleva introdurre in America è stato levato di mezzo. Negli anni Ottanta portò avanti il piano per distruggere dalla sua base in Honduras il governo sandinista del Nicaragua. Il governo sandinista che era stato eletto regolarmente, che non avevano motivo di abbattere, ma perché lo volevano spazzare via. Perché avrebbe decisamente messo loro i bassoni tra le ruote in queste loro operazioni. E quindi ovviamente nel momento in cui risulti scomodo all'elite, l'elite cerca sempre un modo per toglierti di mezzo. Tra l'altro Negroponte, perché la lista non finisce qui, fu anche coinvolto nel tristemente noto battaglione 316, che condusse a una campagna letteralmente turistica fatta di torture contro i civili. E questo individuo, aprite bene le orecchie, che a quanto pare secondo queste storie, vabbè, avete capito, ha causato così tanto dolore e comunque ha partecipato a delle operazioni che hanno causato tantissimo male. Sapete cosa è diventato poi successivamente, come molto spesso accade in questi ambienti? Ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, proprio all'epoca dei disastri dell'11 settembre, e anche sostenitore dell'invasione all'Afghanistan. Capo delle operazioni del governo in Iraq dopo l'invasione, primo direttore della National Intelligence, carica creata da George Bush figlio, per la centralizzazione appunto del potere su tutte le agenzie dei servizi segreti negli Stati Uniti, perché questa è stata proprio un'idea di George Bush figlio, di cui poi parleremo, perché ci arriveremo. E infine, ciliegina sulla torta ragazzi, divenne vice segretario di Stato. Ora, voi ditemi se io, anche se so che queste cose sono finte, però voi ditemi come, alla luce di queste notizie, di queste documentazioni che sono emerse, anche se qualcuno può dire che siano comunque cose false, tutto questo è emerso nel corso degli anni. Quindi, anche se queste cose, no, sono finte, sono comunque emerse delle documentazioni che invece dicono che tutto questo è vero. Voi ditemi come faccio io a credere nella politica come ad un organismo pulito, che agisce per l'umanità, che agisce per l'umanità e che ha a cuore la popolazione di un determinato luogo nel mondo. Se tu mi metti come vice segretario di Stato, uno che ha fatto parte di organizzazioni disumane. Capite che la credibilità crolla, ma non è che crolla perché siamo dei pazzi, crolla perché ci sono i motivi giusti per farla crollare, o no? Che cosa ne pensate di questo altro volto noto? Avete già sentito parlare di John Negroponte? Avete già sentito parlare di queste notizie? Avete visto i video precedenti? Fatemi sapere tutto quello che volete, anche come vi sentite. Grazie per il sostegno, vi voglio tantissimo bene, anime mie. Io vi auguro un buon proseguimento, noi ci vediamo ovviamente al prossimo video dove continueremo a parlare di tutto questo. Un bacione, un abbraccio e ci vediamo alla prossima!